Al centro della nostra azione amministrativa di questo quinquennio c'è stata la difesa del territorio dalla vulnerabilità idrogeologica, ben 5 finanziamenti che interessano dal Formicoso all'Abso, all'Incoronata, al Montesalto e al Caggiano che ci consentono definitivamente di porre in una condizione di sicurezza il nostro abitato, era stato una delle grandi vulnerabilità, qui si aggiungeva quella dell'acqua della tutela della falda acquifera che abbiamo risolto determinando una condizione per la quale oggi c'è una regolarità di distribuzione della nostra acqua potabile attraverso un'installazione di filtri attivi sui nostri territori, quindi un lavoro molto importante che riguarda proprio la difesa del nostro territorio e la qualità della vita sul nostro territorio.